ciao gente mi trovo a san donna di piave provincia di venezia per farvi vedere conoscere osteria sconta e abbiamo un moscardino in umido con la polettina morbida aperitivo di benvenuto moscardino con la polentina molle fatto veramente molto bene morbido gustoso buono arrivato ai lati pasto caldo con canestrelli e cape lunghe assaggiamo i canestrelli caramelle cotti alla perfezione buoni dolci veramente fatti bene assaggiamo le cape lunghe il mare in bocca veramente cotte molto bene gustose belle sapide con questo gusto di mare veramente fantastica arrivato nel pasto bollito assaggiamo le canoce cottura della canoce veramente perfetta buona gustosa fatta bene denti cemantecato è cremoso ma al stesso tempo si sente molto il pesce quindi veramente molto fatto veramente fatto molto molto bene sardine saura fatte bene belle carnose delicate con questa bella cipolla leggermente agrodolce non invasiva polentina molla qui carusi queste sono le caramelle del mare cottura perfetta di carusi poi l'abbinamento della polenta molla ci sta benissimo leggermente tagliate come piace a me sovignon della cantina merano a mio parere loro sono i migliori sia come profumo che anche in bocca è molto molto aromatico e persistente veramente è un bel vino spaghettino alle vongole veraci cottura della pasta perfetta veramente buona gustosi veraci cotte alla perfezione belle carnose buone veramente molto molto buone caramellata porno e canestrello pasta cotta alla perfezione si sente questo bel gusto del canestrello cotti molto bene morbidi ancora succulenti carnosi poi si sente la dolcezza data dal pomodoro buoni 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 ragazzi qui abbiamo una tecnologia di dolce della casa una melefogli frutti di bosco un mini tiramisu e una dei biscottini dei biscottini con crema e mascarpone fatta come la nonna vuole biscottini fatti in casa con crema e mascarpone biscottini fria bellissimi veramente molto molto gusto del buoni tiramisu veramente fatto molto molto bene bello cremoso ma se voglio altro bagnato con il caffè fatto bene millefoglie con frutti di bosco bella millefoglie bella friabile si sente comunque fresca buona morbida golosa e accompagnata con frutti di bosco tipo lamponi e mirtini